beh ragazzi benvenuti al mio canale e benvenuti in un nuovo video oggi siamo qui su corsa libera nella seconda mappa quindi che avete capito come funziona appunto corsa libera che è una modalità parkour dove vi potete anche allenare oppure battere il vostro miglior record oppure quello non vedo ancora la classifica dei record dei tempi però credo che appunto sarà soltanto un record valla a capire ancora non capito come cazzo funziona a parte questo andremo a stabilizzare un tempo per la prima volta su questa mappa ovvero il mio miglior tempo iniziamo con lo start scivolata salto la scivolata la uso appunto per portarmi avanti più rapidamente perché altrimenti in certi anni di cristo può passare avanti infatti può risorgere tre volte e noi siamo ancora indietro che culo allora modalità san giuseppe attivata ma che cazzo può essere pagato tutto ah no ha riniziato vabbè diciamo modalità san giuseppe modalità san giuseppe oh yeah facciamo matrix sui muri come vedete siamo a 49 secondi e ancora manca tanto 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 vi voglio parlare appunto delle camminate sui muri anzi del boost online del boost online che no non è vero nessuno usa boost ma che cazzo non sarà come av invece purtroppo è così ogni 3x2 trovi le cavallette online e non riesci a prendere infatti questa cosa fa parecchi cazzare qui saltiamo l'ostacolo invece che nuotare che facciamo molto prima sono presso perché altrimenti noi qui il tempo lo stiamo ammazzando proprio o meno lui ci sta ammazzando noi e siamo stralenti come vedete adesso c'è il pannello doppio ok sotto sotto giù giù come vedete ecco lì un altro ostacolo da sparare dove si deve usare l'arma e come credi che io lo tiri giù oh che culo bello bello davvero senza penalità ottimo e questo Gesù cristo è caduto dalle nuvole dobbiamo usare al massimo il boost quindi ecco andiamo avanti doppio pannello anche qua teniamo appunto il boost perché altrimenti se non abbiamo più come saltiamo qui la vedo pure nooo eeeh si tanto allora spara nooo di nuovo bravo porca di quella troia oh ma fa in culo sì 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 ci abbiamo fatto io sono stato un attimo muto perché sperimenti facevo le peggio troiate oh le oh sì doppio muro oh yeah oh cazzo guardi e niente tre tre minuti e quaranta appunto questo non è un ottimo risultato ma poi la proveremo a battere appunto i primi risultati stabiliti quindi andrò a rifare le mappe con voi per tentare di battere il record cioè il record quello che per ora è il record perché appunto questo è soltanto uno dei primi tempi che ho fatto e niente per questo video è tutto vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like alla pagina facebook per restare sempre con me yeh e niente per questo video è tutto detto di nuovo porca troia null bella